Il suo nome è Harry, lo hanno sbarcato su quest'isola del Pacifico prima di trasferirlo nelle prigioni di Tahiti dove con altri due dovrà scontare una lunga pena. Questo invece è padre Dunham, qui lui ha fondato un ospedale e con pochi altri cerca di curare i numerosi bimbi malati dell'isola. Due vite diverse, due vite apposte, ma qualcosa molto più grande di loro sta per unirli. Ma supposto che siano qui, molti di quei bambini non sono in condizione di camminare come ce li porta qua giù, è una cosa impossibile. E ne cercherò qualcuno che accetti di venire con me, l'ha detto anche lei che il tempo c'è. Vogliamo andarci noi? Calsiasi uomo, qualunque sia stata la sua vita, può trovare nel nome dell'amore la forza di sfidare la morte. Con Spencer Tracy e Frank Sinatra Il diavolo alle 4 Domani alle 20.30 su Rete4 Il diavolo alle 20.30 su Rete4 Dove c'è Barilla c'è casa Panettone motta, adesso è natale. Noi non siamo soli. Scusate, sono incaricato per una dimostrazione dell'efficacia del panno d'aino. Niente paura, il panno d'aino è praticissimo, è ideale per qualsiasi tipo di superficie. Tutta la vostra casa sarà splendente come questo schermo. Panno d'aino. Mio papà è il più grande cuoco del mondo. È bello Grill Minute Tefal e cuoce meglio sopra, sotto, con grigliate gustose e leggere. E niente grassi. I disegnini come al ristorante. Grill Minute Tefal, quando vuoi un'unica piastra barbecue che trattiene il sugo delle tue grigliate. Tefal, tu pensi a tutto. Cristina, è tutto pronto per i nostri amici questa sera? Sì, ho preparato anche qualche cosa di dolce. Ma Cristina, ai nostri amici non piacciono i dolci. Niente dolci, eh? Dipende da cosa si offre. Cristina sa che avrà successo, perché Mon Cherie è una grande specialità alla ciliegia. Una bella serata, grazie. Non piacciono i dolci? Qui è rimasto un solo Mon Cherie. Ma Cristina, Mon Cherie non è un cioccolatino qualunque. Ah no? Chi può dire di no a Mon Cherie? Domani sera alle 20 e 30 su Italia 1, il ragazzo dal kimono d'oro. Ehi, ma guarda dove vai. Chino, molto crudele, tu non immagini cosa può fare. Ma è una cosa assurda. Noi, i deboli. E Chino minaccia di bruciare tutto ciò che abbiamo se noi denunciare. Fermati, Chino, basta! Dovrà imparare un'arte antica per difendersi e diventare un uomo per poter vincere. Un bel sorriso. Andiamo, presto. Lei hanno deciso che Chino dovrà insegnarti l'arte del carattere. Così potrai annientare. Il ragazzo dal kimono d'oro. Domani sera alle 20 e 30 su Italia 1. Braum mini peamer. Fa questo, fa tutto, fa prima. Mani arrossate dal freddo? S.O.S. Crema GliSolid. Mani segnate dalla giornata? S.O.S. Crema GliSolid. Ricca di glicerina. Ridona morbidezza alle mani. Crema GliSolid. Specialista delle mani. Natale in profumeria. Per provare, scegliere, piacere. Buongiorno, signor Rossi. Lo sai che il gas, come tutti i combustibili, bruciando consuma aria e quindi ha bisogno di un ricambio d'aria continuo? Ma no, questo non vuol dire rinnovare l'aria. Santo cielo, questo è troppo. Basta una presa d'aria e poi assicurati che la canna fumaria sia sempre libera e pulita. Così con un continuo ricambio d'aria ti godi il caldo sicuro del tuo gas. La sicurezza è una buona abitudine. Scopri i nuovi sapori del benessere. Scopri i pani del mulino bianco. Morbidi, ricchi di cereali più buoni, per dare leggerezza e sapore alla tua tavola. Li trovi di soia, di cinque cereali, integrale, bianco e anche di segale. Nuovo, dal gusto più delicato. Mangia sano, torna alla natura, col mulino bianco barilla. Il sole è abbastanza alto per iniziare il giorno. Basta un suono per tenerci con il fiato sospeso. Il cinema sa farci provare mille emozioni. Tele più uno e 365 giorni di emozioni. Regalatela a Natale. Abbonati nei migliori negozi di TV e Wi-Fi. Non è l'aggressività che fa vincere, ma la calma e la lucidità. Per questo ho scelto Teinfre. È deteinato. È buono qui. È buono qui. Teinfre. Solo il piacere del te. C'era una volta un re. Povero re, sempre in guerra. E c'era una volta una figlia di re. Povero re, quale figlia? Sono fatta così, padre. Povero re, una guerra da finire, ma come? Una figlia da sposare con chi? Ti sei innamorato? Sì. Non è il momento di pensare all'amore. C'è una guerra che ci aspetta. Non è una guerra. È un duello. Come finì ancora a dirti, non so, ma un consiglio darti potrò. Alessandra Martinez e Kim Rossi-Stewart. Fanta Ghirò. Domani è lunedì 20 e 40. Canale 5. Una presentazione Pelliccerie Mac e Gregorys. Potete permettervi il lusso. Lunedì prossimo, come di consueto, continuano su Rete 4 le avventure di Manuela. Continuano gli amori. A un tratto si guardano e non si separano mai più. Continuano le sorprese. Per piacere la prego, madre. Mia moglie è qui. Ma la sorpresa più grande e la più gradita arriverà a fine puntata. A quel punto, infatti, ci collegheremo direttamente con l'Argentina e con Giorgio Mastroth entreremo insieme nella Villa dei Salinas, dove saranno ad aspettarci tutti i protagonisti di questa appassionante telenovela. Incontreremo Gracia Colmenales, Orge Martins, Maria Rosa Gallo, Gabriel Corrado, solo per citarne alcune. E, fra aneddoti e storie personali, ci augureranno insieme il loro più caloroso Buon Natale. Un appuntamento speciale lunedì alle 20.30 con Manuela. E di seguito Natale in casa Manuela. Naturalmente, su Rete 4. Solo l'uomo del monte sa quando l'ananas è pronto a dare il meglio. L'uomo del monte ha detto sì! Questo sì che garantisce quel gusto speciale sulla tua tavola. Sì al meglio, sì a Del Monte. Attenzione! Non fate questo con nessun altro ferro. La piastra del nuovo Brown Zaffir è così dura che scivola sempre come nuova. Nuovo Brown Zaffir, lucidato con polvere di zaffiro per durare più a lungo. Vicks Sinex Spray libera il naso subito e per 6-8 ore. Stasera? Non c'è problema! Woohoo! Sì mamma? Che raffreddore! Ho usato Vicks Sinex! È tutto il giorno che ho il naso libero. Vicks Sinex Spray! Sono io che sono occupato! Un lungo sollievo al tuo raffreddore. Evitare l'uso prolungato. Noi non siamo soli. Siamo troppo forti! Oh veloci, ci stanno aspettando. Ehi, ho qualcosa per te. Cosa? Shampoo e balsamo. Tutto in uno. Non più prima lo shampoo e poi il balsamo, ma New Dimension. Shampoo e balsamo insieme per capelli al massimo. Sempre in forma. New Dimension. Shampoo e balsamo insieme. Più belli, più in fretta. Collega, la risposta SEAT alla sfida di un mondo sempre più esigente. I don't want it all, I want it all, I want it all, and I want it now. It ain't much time asking, gotta find me a future, and I want it now. SEAT, gruppo Volkswagen. Soffrire così per depilarsi alla radice? Prova, Silke Peele Brown. Il suo esclusivo sistema a pinzetta. Sfila alla radice anche i peli più forti, senza torcerli. Così sei bella più a lungo e non perdi il sorriso. Silke Peele Brown. Sorridi alla bellezza. Natale in profumeria. Per provare, scegliere, piacere. In questo clima di peste, anche i nemici più tenaci non dimenticano i buoni sentimenti. Buon Natale, 007. Ma per James Bond sarà una tregua di breve durante. Dal 27 dicembre riprenderà la sua rischiosa attività spionistica. Le imprese più spericolate su Rete 4. Agente 007 al servizio segreto di sua maestra. Destinazione Tokyo per Sean Connery. Per Agente 007 si vive solo due volte. Dove sarà onorato con la proverbiale gentilezza orientale. Benvenuto in Giappone, Mr. Bond. Ancora Sean Connery e la sua classe inossidabile con Agente 007 una cascata di diamanti. Dove Bond darà sfogo alla sua passione per le macchine fantascientifiche. Ma la grande prova il vero saggio di stile sarà mai dire mai. Dove per Bond per James Bond la compagnia e la tecnologia si faranno più sofisticate. E per chiudere in bellezza James Bond 007 Casino Royale dove David Niven e i suoi collaboratori tutti rigorosamente firmati 007 metteranno a suo quadro i sistemi mondiali di controspionaggio. Dal 27 dicembre su Rete 4 tutte le sere 5 immancabili appuntamenti con l'agente 007 Una presentazione presi dentro il server di Cadonna C'era una volta un nonna C'era una volta un bimbo C'era una volta un vecchio castello Davvero una grande casa Penso che non sarebbe così solo ora che sono qui Che ti fa pensare che sono così solo? Beh mi sembra naturale Io lo sarei Ma non quel vecchio burbero? No Non ti lascio cadere Non è nelle mie intenzioni Cadena Ah troppo serietà troppo severitorico Tu l'ami pezzamente quel ragazzo vecchio burbero? Ciò che sei Di solito i ragazzi sono una seccatura e basta Non si dà il caso che se ti non lo sia Non mi dispiace affatto essere Lord Contrero e il futuro Conte di Dorico E a tutti ovunque si trovino a tutti Buon Natale! Il Piccolo Lord Martedì alle 20.30 Su Rete 4 Che guaio dare corpo ai capelli quando non c'è il parrucchiere Per questo Brown ha creato un phon professionale con un diffusore unico al mondo Dalle sue punte esclusive esce aria calda che asciuga i capelli direttamente alla radice e subito ritrovano corpo e volume Brown Professional Diffusor Un altro Pinocchio Ardoni Cinzano Per favore Pinocchio Ardoni Cinzano Per molti ma non per tutti Noi non siamo soli Eccolo qui Vi presento mio figlio Luca E con lui i nuovi Pampers Faces Quattro pannolini diversi per ogni fase della sua crescita Prima fase Primi giorni Guardate l'ombelico del mio piccolo Luca Un incavo speciale lo lascia libero di cicatrizzare Seconda fase Primi mesi Luca a pranzo Quando la sua dieta è liquida due bande tieni tutto contengono tutte le fuoriuscite anche quelle di Pupù Terza fase Primi passi Bravo Luca! Quando lui si muove tanto gli adesivi più larghi tengono il pannolino ben aderente in vita Quarta fase Prime corse È preso proprio da te Tanta libertà di movimento grazie al cavallo più stretto e all'assorbenza extra Nuovi Pampers Faces Fase dopo fase Anche bagnati restano asciutti Civas Regal Il più regale dei whisky Quest'uomo è un dentista per cui non possiamo mostrarvi il suo volto in tv Buongiorno dottore Vi siete mai chiesti quale spazzolino usano i dentisti per i propri denti? Oral-V Sì, naturalmente In Italia la maggioranza dei dentisti usa oggi Oral-V Oral-V lo spazzolino più usato dai dentisti Cari amici oggi vi parlo di Bilba di Cadei trattamento ristrutturante al midollo di bue placenta per ogni tipo di capelli per lui e per lei Bilba shampoo qualche minuto per agire e poi Bilba concentrato un vero trattamento d'urto ogni dieci giorni un impacco per qualche ora previene la caduta e rinnova i tuoi capelli Bilba linea rossa l'unica colazione sinergica midollo e placenta e che meraviglia un soffio di lacca Bilba Sicuro Cadei Anche i desideri più pazzi più impossibili questa notte si possono operare Se io volessi se io volessi baciare la luna questa notte la potrei baciare ma solo questa notte perché quando sorge il sole arriva l'inverno Via, via vieni via con me Chi è? Entra in quest'uomo di buio pieno di uomini Via Entra e fatti un bagno caldo C'è un accappatoio azzurro Fuori piove un mondo freddo Maschi? Molto A Capodanno su Rete4 E allora ho capito che solamente venendo a un paradiso mi potrei tornare il sorriso In un paese lontano lontano un cervo ed un bimbo si parlano piano Nel mondo dei sogni quel bimbo racconta e del desiderio che aveva una volta di avere un amico un fratello un compagno Il bimbo ha giurato per tutta la vita con fiocco al suo fianco vorrebbe giocare ma come ogni fiaba con gli orsi rispetti la fine col fiato sospeso t'aspetti Hai capito? Vattene! Vattene via! Non posso più far nulla per salvarti Vattene! Tu ci daranno se resti qui! Il cucciolo Rete4 il 25 dicembre alle 20 e 30 comincia così il suo Natale D'acqua 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 Ah, cosa? Action Profumo trussarti action Action Profumo trussarti action Sta schiarendo Morbido E' l'aurora? No E' per l'ana bella aurora Una morbidezza nuova Che profumo E' l'aurora? No E' per l'ana bella aurora Una freschezza nuova E' l'aurora No, è per l'ana bella aurora Per l'ana bella aurora La fresca morbidezza del nuovo giorno Passaparola Nuvenia Pocket Sicura Sì, Nuvenia Pocket L'assorbente ripiegato in bustina Oggi con il nuovo filtrante effetto asciutto Nuvenia Pocket Super, ultra sottile, proteggi slip Tu e MultiPratic Una splendida coppia in cucina Voglio un'acqua che nasca dove nessuno può arrivare L'acqua vera Voglio che corra e salti Voglio sentirne il canto che nessuno può imitare La voglio pura Voglio che abbia tutta la forza che c'è nella natura Deve brillare al sole E poi scappare dove nessuno mai la può seguire Voglio berla così Fresca Sincera Ho voglia di rinascere Ho sete di acqua vera Acqua vera Acqua pura Tra Luigi e Luca? Luca Tra Luca e Marco? Luca Tra Luca e Giulio? Giulio Ma non ha la forfora? No, non ce l'ha più Tu come lo sai? Mi ha prestato Claire Claire funziona contro la forfora regolarmente Ah, visto? I guanti Ansel ti danno due mani in più Guanti Ansel, protezione ideale per le tue mani Un corpo oscuro nel sistema SK, vostra maestra Coloro che vi abitano lo chiamano pianeta Terra Distruggerete il pianeta Terra? Sì, ma non subito Dal punto più tetro della galassia Un grande pericolo si sta battendo sul nostro pianeta Noi dovremo scoprire e combattere Chi vuole distruggere la Terra? La luna precipita sempre più velocemente verso la Terra La fine del tuo mondo è ormai vicina L'attacco è troppo violento Non riusciremo mai ad aprirci un barco se abbandoni i comandi Adesso svuoteremo la tua memoria Come se ti svuotassimo le tasche Dimentichi che sono una principessa, Cletus Ming chiederà la tua testa per questo Dalla matita di Alex Raymond Alla pellicola di Michael Le mitiche imprese di un grande eroe dei fumetti In una superproduzione di Dino De Laurentiis Flash Gordon Giovedì 2 gennaio alle 20.30 Su Rete 4 La natura di prima mano Presente? Vi ricordate di lui? L'abbiamo chiamato E.T. Qualcuno l'ha trovato tutto solo I suoi semili l'avevano dimenticato sulla Terra proprio quel giorno Era un giorno importante E tutti erano confusi Felici e un po' distratti Da tanto tempo sulla Terra si aspettava il loro amico E anche loro erano commosse Grazie a Steven Spielberg Possiamo vivere quel momento magico Anche noi che non c'eravamo Una storia fantastica Piena di speranza Per sentire nel profondo del nostro cuore Che noi Non siamo soli Incontri ravvicinati del terzo tipo Giovedì alle 20.30 Su Rete 4 Partecipano al pranzo di Natale 4.750 scapponi 7.350 tacchinelle E beh anche ai bambi Natale piace mangiare bene Prezzi standa Grande Natale Effettivamente Torroni sperlari La festa è grande Eccoci arrivati E questo è Kaori Vieni nel Giappone per studiare Parli italiano? Poco poco Avrai fame? Poco poco Piradelfia Filadelfia Assaggia Senti com'è cremoso Buono vero? Mmm Kaori stai con me per sempre? No Poco poco Passa su con queste parole Filadelfia? Sì Tanto tanto Kaori sei unica Piradelfia unico Filadelfia Il gusto unico Inimitabile Craft Cose buone dal mondo Noi Non siamo soli Buongiorno signor Rossi Lo sai che è bene fare un controllo periodico degli apparecchi a gas? La caldaia per esempio Te ne prendi cura? Ma non così Devi chiamare un tecnico qualificato Che farà una bella revisione ai bruciatori Controllerà che la canna fumaria abbia un buon tiraggio E se necessario sostituirà il tubo Che va cambiato ogni 5 anni E così ti godi il calduccio del tuo gas La sicurezza è una buona abitudine Questa crema ha un'alta concentrazione di vitamina A Si chiama Eovitol La vitamina A di Eovitol Protegge e cura la pelle danneggiata dal tempo Dal tempo freddo Dal tempo secco E dal tempo che passa Eovitol Specialità dermatologica La vitamina A Normalizza la struttura dell'epidermide E favorisce la normale funzionalità delle cellule Eovitol In crema e stick per labbra È un medicinale usare con cautela La pelle difende la tua salute e la tua bellezza Difendi la tua pelle con Eovitol Questo labirinto è proprio impossibile Da ogni parte c'è un muro che ti blocca Ma non fermarti Insisti Cerca la strada giusta Labirinto magico e maestri del labirinto I giochi dove anche i muri tremano Dalla Ravensburger Auguri Un albero rosso È l'augurio Campari Di Buon Natale Sabato La gente 007 Avrà la classe inossidabile Di Sean Connery Destinazione Tokyo Dove James Bond La gente più imitata Il più amato Sarà accolto con tutti gli onori Proprio come si conviene ad un gradito ospite Del solde a parte Benvenuto in Giappone Mr Bond Obiettivo Identificazione e distruzione Della base missilistica Spettra Bluffeld Ha ultimato un piano Per costringere le superpotenze Ad una guerra spaziale Addestrato per quella missione Da gentili maestri Dagli occhi a Mander Bond Conoscerà le tecniche più avanzate Nelle arti della dissuasione E della persuasione Cosa non farei per l'Inghilterra? Agente 007 Si vive solo due volte Sabato alle 20.30 Su Rete4